E' forte a Barretta la costernazione per l'episodio che ieri pomeriggio ha visti il capogruppo del Partito Democratico Pasquale Ventura vittima di un agguato. Verso le tre del pomeriggio, due persone in sella a una moto di grossa cilindrata gli hanno sparato contro due colpi di pistola mancandolo. Uno dei due indossava un casco, l'altro aveva il bavero alzato. L'episodio è avvenuto nella centrale Via Firenze dove abita la figlia dell'uomo politico. Pare che un primo colpo sia stato esploso appena Ventura è uscito dal portone, mentre il secondo dopo un breve inseguimento, dopodiché i due si sono dileguati. Sul caso, che è rimbalzato subito anche sulle cronache nazionali, indagano il commissariato di Barretta e la Digos di Bari. Ventura comprensibilmente sotto shock già ieri è stata ascoltata dalle forze dell'ordine, mentre oggi si è incontrata in procura con la dottoressa Mirella Conticelli che coordina le indagini. La polizia sta esaminando sia dei frammenti di ogive raccolti sul luogo della sparatoria che i filmati di alcune telecamere della zona. Si cerca di capire se quello operato dai due killer sia stato un tentativo di omicidio fallito oppure un avvertimento. Circa il movente dell'attentato, l'ipotesi sia pur tutta da verificare che almeno inizialmente sta perseguendo la procura, riguarda fatti inerenti la vita privata di Ventura, anche se stamattina presso il commissariato di Barretta stazionavano alcuni occupanti abusivi delle case di proprietà del comune nei pressi dell'ex distilleria e almeno uno di essi è stato interrogato. Come si ricorderà, tali case, destinate come residenza per anziani, sono occupati abusivamente dal 2009. Una settimana fa i carabinieri vi hanno fatto irruzione, arrestando 17 persone per furto di corrente. Il GIP Angela Schiralli ha ingiunto agli occupanti di liberare gli alloggi entro 30 giorni, pena lo sgombero forzato. In uno degli ultimi consigli comunali, uno dei numerosi occupanti abusivi presenti tra il pubblico ebbe un violento alterco con Ventura che non degenerò solo per l'intervento dei vigili urbani e di altri consiglieri. La pista degli abusivi sembrerebbe però meno accreditata. Molti messaggi di solidarietà giunti a Ventura, sia da politici nazionali come Rosi Bindi e Ivan Scalfarotto del PD e Giuseppe Brescia del Movimento 5 Stelle che da quelli locali, l'onorevole Giuseppe D'Ambrosio, sempre del Movimento 5 Stelle, ha denunciato l'accaduto intervenendo sull'argomento alla Camera. Il sindaco Cascella condanna l'episodio ed esprime piena fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura perché si accertino le responsabilità e si faccia presto giustizia. Solidarietà avventura anche sul web, sia da politici che da semplici cittadini.